ti allargiamo lo staff a faggianotti e tanto è vero che stiamo a chi non parla del produttore il primo produttore è di uno che ne serve che gestisce l'account di twitter di faggianotti l'account è come un cagnolo che è stato lasciato in mezzo alla strada e ci sono qualcuno che si piglia e le dà da mangiare un altro produttore che ne serve è di uno che ha ottenuto un cazzo da fare in questo periodo nessuno non c'è niente da fare o piglia le video e taglia e tagliuzza qua e dà insomma qui ci sono due produttori che ci hanno mangiato quindi tenete amici che pensate che vogliono fare questo tipo di fatica facciatelo sapere, lasciate sulle faggianotti sulle faggianotti sulle faggianotti e scrivetene, lo voglio fare il produttore, due requisiti ci vorranno qui ci sono obbligatori uno ad essere una persona apolitica e due ad essere tendente ad essere iconoclastico io ho chiuso un tutto di matrix 4 che non ce l'ho chiamato ma la chef fa un culaccio l'ha stramuerto buh 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 buh